Un bilancio positivo e ricco di opere pubbliche è quello presentato dal presidente della provincia di Teramo Camillo D'Angelo che ha festeggiato il suo primo anno di mandato. Tra le principali realizzazioni spiccano quelle riguardanti la viabilità con lo sblocco delle opere dell'ANAS che erano ferme da anni. Inoltre il presidente ha annunciato la pianificazione urbanistica di tre ciclovie che collegheranno i fiumi Tordino, Vomano e Salinello. Una provincia che gode di buona salute, che era semplicemente dormiente. Abbiamo svegliato questo grande ente che è e sarà sicuramente uno e l'unico raccordo istituzionale per i territori e per i comuni e in questo anno abbiamo dato delle risposte come nello spirito di questa amministrazione in tutti i comuni. Oltre 130 interventi di manutenzione stradale in quasi tutti i comuni della provincia di Teramo. In tutte le scuole per quasi 20 milioni abbiamo fatto manutenzione ordinaria e straordinaria, eliminando anche problemi annosi come infiltrazioni dell'acqua, rottura di finestre ed altri interventi di tipo manutentivo vario. Ancora c'è altro da fare, siamo già in corso, ma tanti interventi anche di carattere straordinario e di visione, come ad esempio le ristrutturazioni e le riqualificazioni di questa sede, gli interventi proposti su altre strade, svincoli autostradali, il ponte di Castelnuovo, tante opere che sono andate, stanno andando a buon fine attraverso l'accelerazione amministrativa. Grande soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente D'Angelo per le risorse confermate dal Vice Premier Ministro dell'Infrastrutture Matteo Salvini, oggi in Abruzzo, per la realizzazione del quarto lotto della Teramo Mare. Questa scelta gode anche del mio applauso perché il Ministro aveva le dei chiare, ha le dei chiare, ha spinto molto a nominare il Commissario che supera tutti i tipi di problematiche che purtroppo si creano di fronte a queste opere. Il quarto lotto sarà fatto, sarà in realtà in fase esecutiva avanzata, sicuramente dovranno completare qualche itere procedurale che porterà poi all'affidamento dell'appalto e quindi d'opera inizierà con una, sicuramente con una nuova prospettiva per la provincia di Teramo, cioè quella di collegare i flussi economici tra Roma e la 24, quindi non tenere più scollegati la dorsale adriatica che oramai rappresenta uno dei principali bacini economici della nostra provincia e della nostra regione e collegarlo quindi alla versante tirrenica e a Roma.